Ciao e benvenuto sul canale, io sono Riccardo Roni, istruttore di guida, e oggi andrò a demolire i peggiori miti sulla guida della moto. In questo video vediamo i primi tre, e poi se l'argomento piace e interessa andranno avanti questi video e diventerà proprio una serie, quindi fatemi sapere se è un tipo di video che vi può piacere, e anzi, se proprio tu hai un mito che venga trattato in questa sede, scrivimelo qua sotto nei commenti e vedremo nei prossimi episodi. Iniziamo subito con il primo. Questo veramente è molto radicato, ma dappertutto c'è un sottobosco dei peggiori bardicaracas dove si sente dire in continuazione che con una bassa pressione avrò più grip. E via tutti a sgonfiare ste gomme, andrà tutti a una, a una e mezzo di pressione perché, beh, così ho molto più grip. Solo per poi sentirseli tutti lamentare sui social, eh, ma lamentare poi, si fa per dire, è un lamento borioso, eh, ma la gomma, guarda, mi è durata solamente mille chilometri, duemila chilometri e l'ho distrutta. Grazie a ca... Stai a girasgonfio. Quella non è capacità di guida, quella è inettitudine proprio. Quella è mettersi i bastoni tra le ruote e poi vantarsene. È tutta un'altra cosa. Questo perché non si tiene conto che qualsiasi tipo di gomma ha, tra le varie specifiche, una pressione di utilizzo, cioè qual è il suo range in cui la gomma è stata progettata per lavorare, per darti il 100%. Ovviamente parlando di pressioni a caldo, quindi dopo che la gomma si è scaldata. Ora, su strada, le gomme non si scaldano poi così tanto, a meno proprio di non stare in periodi estivi, 40 gradi all'ombra e avere un bel ritmo, bello allegro. Anche in quel caso si scalderanno, ma in pista è dove si scaldano molto di più. Quindi, se prendiamo questo mito, come appunto parlando di Bardi Caracas, come dicevo all'inizio, un mito radicato nella guida su strada, tra gli smanettoni, tra i pilotoni del coglionecchio, quelli lassù in quel passo stupendo, stiamo parlando di uno dei peggiori miti della storia di sempre. Perché calare tanto una pressione su una gomma, omologata stradale, anche se molto sportiva, pistagliola, ma comunque omologata stradale, quindi con delle certe tolleranze, progettata, costruita in un certo modo per la strada anche. Ha un range di utilizzo per quanto riguarda la pressione, che è sì molto ampio per permetterci appunto di andare a coprire tutte le varie casistiche. Chi sta in cima sul cucuzzo della montagna a 5 gradi, chi sta a pieno carico, chi sta con 200 kg di roba, insomma, chi pesa 50 kg sta da solo. Se andiamo a calare molto la pressione, andremo sì a aumentare la nostra impronta a terra, ma quella impronta a terra poi non si traduce in 100% più grip. Perché? Proprio per via della pressione d'utilizzo che richiede quella gomma, sotto quella pressione d'utilizzo la gomma lavorerà male, avrà più impronta a terra. Sì, ma sarà molto più morbida, cioè si muoverà molto di più, sarà molto meno precisa nella guida, in inserimento, in percorrenza, la sentiremo molto più muoversi e perderemo di precisione alla guida. Tra le altre cose, stiamo consumando in maniera sconsiderata la gomma senza trarne vantaggi, proprio perché quell'impronta a terra in più non si traduce poi in più grip. Quindi smettiamola per favore di stare a violentare queste povere gomme con pressioni fuori da ogni logica, 1,5, 1,6, 1,7. Che pressioni so su strada, regà? Per il posteriore intendo l'anteriore, vuoi o non vuoi, richiede sempre un po' più di pressione perché ci va, comunque si deve sostenere quel trasferimento di carico che nelle frenate è sicuramente più accentuato. Usare il corpo per piegare. È una cosa che sentiamo dire spesso in giro, quando ci fermiamo, tra amici, nei bar, magari l'avete sentito anche in qualche video e è tra le cose più sbagliate che si possa dire quando si parla di piegare, di curvare in moto perché non si usa veramente il corpo per innescare il rollio della moto appunto per farla scendere in piega e affrontare una curva. Questo perché quando siamo in sella ad una certa velocità, che non deve essere per forza una velocità stratosferica, basta anche semplicemente i 20, 30, 40, 50 all'ora, la moto, il sistema motopilota, quindi il peso della moto e il nostro in sella ha una certa inerzia che aumenta con la velocità perché il sistema tende a mantenere il proprio moto rettilineo. Quindi c'è una certa forza nel farle cambiare la direzione alla moto usando solamente il corpo perché quando diciamo di usare solamente il corpo vuol dire spostarci lateralmente per variare il baricentro del sistema motopilota in modo tale da portare la moto gradualmente a farla inclinare da un lato o dall'altro. Ecco, questo lo possiamo fare se stiamo in un piazzale o in un ambiente controllato e sappiamo già che c'è laggiù una curva allora ci prepariamo perché riuscire a inclinare la moto spostando solamente il baricentro è un'azione molto lenta e lo sarà ancora di più al salire della velocità all'aumentare dell'inerzia quindi quando diciamo usa il corpo per piegare quando si sente dire usa il corpo per piegare non è quello che si intende per davvero almeno nella testa di chi lo dice ed è ancora vivo perché effettivamente neanche lui sta facendo quella cosa altrimenti non starebbe qui a raccontarcelo ma il metodo più sicuro ed efficace mi raccomando questa parola efficace per piegare per andare in piega per curvare per fare la curva è l'utilizzo della precessione giroscopica ora non entro nei meandri tecnici, fisici quant'altro perché non è questo il video non è questa la sede diciamo il momento di farlo ma utilizzare il controsterzo l'input di controsterzo è solo grazie a quello solo grazie al manubrio quindi proprio per come è stata progettata la moto all'epoca, all'alba dei tempi che riusciamo a farla piegare solo ed esclusivamente in modo efficace utilizzando il manubrio quindi andando con un input di controsterzo nella stessa direzione in cui vogliamo piegare la moto vogliamo fare una curva a destra input di controsterzo ossia spingo la manopola interna alla curva dove voglio fare la curva e la moto per precessione giroscopica fa sì che la moto scenda in piega non spostandoci con il corpo in sella che non vuol dire che spostarci in sella è una cosa inutile a prescindere in assoluto nella guida in qualsiasi aspetto della guida della moto ah no è molto importante ma per altri aspetti non per piegare ma per piegare meno la moto perché più ci sporgiamo noi più usciamo noi fuori dal profilo della moto verso l'interno della curva e più spostiamo il nostro baricentro verso l'interno e quindi la moto potrà compensare piegando di meno lei fin tanto che pieghiamo di più noi poi serve anche ad avere quei punti di contatto tali da non influenzare ulteriormente il manubrio tutta una serie di cose insomma un esempio che posso fare i denti quando mangiamo quando mastichiamo i canini che possono essere il nostro usa il corpo per piegare i canini entrano poco per dire nella masticazione di un cibo più che altro utilizziamo questi qua dietro i premolari i molari quindi i canini sì sono sempre denti stanno sempre in bocca sì li usiamo per masticare stanno lì qualcosa smuzzicano ma la masticazione si fa più che altro con quei denti là stessa cosa qui la posizione del corpo influisce in lieve parte al al mandare in piega la moto per quella questione della variazione del baricentro ma non è l'attore principale in questa scena altro mito tra veramente i peggiori se poi e più pericolosi se poi preso alla lettera è questo che vi sto leggendo adesso in moto si deve sempre o accelerare o frenare ma davvero c'è qualcuno che pensa e dice davvero questa cosa non lo so non lo so questo è è proprio assurda questo questa è una cosa assurda e facciamo una cosa ragioniamo per assurdo pensiamo per un attimo che questo mito sia la realtà cioè sia veramente così che si debba guidare così che o stai accelerando o stai frenando non esiste che parzializzi non esiste che stai a gas costante non esiste che stai a gas chiuso senza il freno o stai dando gas o stai frenando ok a quale pro cioè perché fare una cosa del genere molto probabilmente anzi lo do per assodato è perché è per avere sempre la moto o carica all'anteriore o carica al posteriore no o sto frenando o sto accelerando non c'è mai un momento in cui la moto è bilanciata è completamente bilanciata e ha una distribuzione dei pesi il più possibile 50 e 50 per quanto a seconda del tipo della moto non è ovviamente sempre così ok per quale motivo cioè allora è un mito è un modo di dire che posso capire per alcuni versi se applicato solo alla pista ma anche lì non è sempre vero anche lì non stiamo sempre o accelerando o frenando ci sono dei curvoni in cui si sta con col gas appoggiato in cui si sta con una percorrenza discreta per per un diverso tempo e non stai accelerando o frenando però vabbè a parte questo anche perché il trasferimento di carico all'anteriore e al posteriore gravano sulle relative gomme e se eccediamo questo trasferimento di carico avremo all'anteriore un low side una chiusura di sterzo una chiusura di manubrio e al posteriore avremo un high side ossia una derapata no? una perdita di aderenza al posteriore che poi se riprende ci schizza in area altrimenti è un low side dal posteriore anche lì quindi in quei trasferimenti stiamo comunque chiedendo più di più alla gomma rispetto a una situazione più bilanciata in cui la distribuzione dei carichi è più o meno allo stesso livello ma a parte questo in strada ragazzi ma come come è possibile pensare a una cosa del genere dove non si sa mai dietro la curva che ci sta se non la vediamo come possiamo pensare di decidere a priori a questa la faccio accelerando se sto andando piano e voglio aumentare la velocità generalmente ci si arriva frenando diciamo ah qua freno ma freno in questo punto fino a lì e poi riaccelero perché ti dovrai almeno programmare il punto in cui riacceleri altrimenti ti fermi se non sai dove andrai a riaccelerare seguendo questo dogma questo paradigma arriverai in mezzo alla curva che magari la curva prosegue e tu te fermi oppure riacceleri e poi rifermi perché magari cambia raggio non è veramente è come ho detto all'inizio è tra i peggiori e più pericolosi miti che si possano si possano dire si possano seguire quindi questo mito poi porta con sé anche la la tecnica di portare la frenata in curva no perché se posso solo accelerare o frenare arrivo pinzato fin dentro la curva finché poi non capisco dov'è che poi posso andare a riaccelerare e questo è un aggravante secondo me è darsi ancora peggio la zappa sui piedi cioè darsela in fronte e poi sui piedi perché l'utilizzo di questa tecnica cioè quella che si dice in inglese trail breaking ma io eviterei di utilizzare sempre questi inglesismi cioè la nostra lingua è abbastanza matura e piena di parole per poter descrivere la maggior parte dei termini quindi portare la frenata in curva frenare fin dentro la curva va bene piccolo inciso andremo ad aggravare una situazione che già è gravosa dal punto di vista della sicurezza perché stiamo già entrando in curva una curva che non conosciamo o anche che conosciamo di cui non sappiamo poi le condizioni reali attuali nel momento in cui ci stiamo passando perché può essere successo qualsiasi cosa se già ci siamo passati dieci minuti prima anche solo un vecchietto che si è fermato con la macchina dietro la curva per raccogliere d'umore per chiacchierà col contadino dietro la curva può essere qualsiasi cosa un gatto andiamo ad aggravare una situazione come dicevo già molto pericolosa andando a chiedere tanto a quella gomma anteriore perché dovrà gli stiamo chiedendo di rallentarci e di curvare e di piegare quindi non stiamo solamente aggiungendo carico verticale sulla gomma andando a frenare quindi aumentando teoricamente l'aderenza il grip che può dare la gomma perché si lo può dare ma fino a un certo punto ma nel momento in cui iniziamo a piegare stiamo aggiungendo sempre più carico laterale quindi più sarà la piega e più questa forza aumenterà rispetto a quella che poi effettivamente noi riusciamo a dare alla gomma anteriore quindi veramente è un connubio di cetrioloni che stanno volando e stanno puntando proprio al nostro sedere perché ci stiamo mettendo nella peggior posizione possibile su strada questa cosa è da evitare ad ogni costo è molto più il tempo in cui si sta parzializzati o in cui si sta in una situazione di equilibrio con i trasferimenti di carico sulla moto piuttosto che o in puntati o in accelerazione e ragazzi se continuo a leggere qua i miti che ho scritto veramente ce ne sono alcuni che ti strappano un sorriso e ti strappano i capelli nello stesso tempo quindi non vado avanti perché già il video è abbastanza lungo ma fatemi sapere se vi piace se vi è piaciuto e volete che diventi una serie spolliciatelo quindi fatemelo sapere noi come sempre ci vediamo in sella grazie a tutti